Contrasto al fenomeno del caporalatto, la giunta regionale approva il protocollo di intesa. Convegno sul tema della legge gialli, si è svolto al Castello Orsini di Avezzano. Rinviate la decisione del convegno di Stato, tra poco ascolteremo l'avvocato Leonardo Cascere. Nuovo un accademico del Grand Sasso Science Institute, inaugurato il 14 novembre all'Aquila. Corriere saluto dagli studi di Antenna 2. Dunque la giunta regionale, con delibera numero 149 del 6 aprile scorso, ha approvato il protocollo di intesa per le azioni di contrasto al fenomeno del caporalato e dello sfruttamento lavorativo in agricoltura che avrà durato fino al 31 dicembre 2018 e potrà essere prorogato o riproposto. Tale protocollo, fortemente evoluto dal 2016 dall'assessore alle politiche agricole Dino Pepe, è stato sottoscritto il 12 maggio scorso da Regione Abruzzo, Ispettorato Interregionale del Lavoro di Roma, IMSS, Direzione Regionale INAIL, ANCI, CGL, CISLA, UIL, ASSO Lavoro, Coldiretti, CIE e Copagri. Si tratta di un complesso lavoro avviato nel 2016, condotto da apposito tavolo partenariale costituito nell'ambito del Dipartimento Politiche Agricole, con la partecipazione dei soggetti istituzionali che hanno contribuito alla stesura e condiviso il testo finale del protocollo di intesa. Documento quest'ultimo, che fa riferimento alla sopravvenuta legge che detta nuove disposizioni in materia di contrasto al caporalato ed al lavoro nero. La dirigente del Servizio Affari Dipartimentali, Maria Antonietta Fusco, coordinatrice del tavolo partenariale del protocollo per la sua attuazione, nel mese di giugno ha costituito l'osservatorio regionale, indicato dal protocollo che prevede tre compiti complessi, il monitoraggio costante del fenomeno e la raccolta dei dati relativi al caporalato e agli altri fenomeni inerenti all'utilizzo improprio e allo sfruttamento di manodopera in agricoltura nel territorio regionale. L'osservatorio si raccorda istituzionalmente con il Comitato di coordinamento regionale, costituito presso il Dipartimento della Salute per realizzare la programmazione coordinata degli interventi di prevenzione e vigilanza. A giudizio dell'osservatorio il contrasto al caporalato e al lavoro irregolare in agricoltura comporta una lotta senza confine, perché si può parlare anche di caporalato invisibile, importato con i prodotti sotto costo. Pertanto le azioni messe in campo tutelano l'agricoltura regionale di qualità per il migliore posizionamento della stessa. Importante convegno oggi pomeriggio al Castello Orsini di Avezzano sul tema della legge Gelli. Tra gli altri ho portato il saluto della città il sindaco Gabriele De Angelis, che ha così commentato l'iniziativa. Ho portato il saluto dell'amministrazione comunale al convegno, la legge Gelli. Le riforme del processo penale che si sta tenendo al Castello Orsini con relatori illustri. Nel mio intervento ho ribadito l'importanza per il nostro territorio di riaprire il Tribunale di Avezzano senza attendere la scadenza della proroga del 2020. A tal proposito ho riferito di aver avuto questa mattina un incontro con il sottosegretario, l'onorevole Chiavaroli, sollecitando una presa di posizione forte e netta della politica. Benvengano anche nuove commissioni regionali, ma i numeri del Tribunale di Avezzano, come anche deglutire altri, sono ormai noti a tutti e sono indiscutibili. Se saranno due tribunali che potrebbero essere riaperti, occorre lavorare alacramente per far sì che Avezzano sia uno di questi, anche confrontandoci con altre realtà. A tal riguardo abbiamo registrato un'ampia convergenza dei comuni marsicani che sono al nostro fianco in questa battaglia, pronti anche a sostenere le spese di funzionamento di questo precioso presidio di legalità. Non si può perdere ulteriore tempo. Per noi questa rimane la priorità al lavoro. Ed ora un servizio relativo alla decisione del Consiglio di Stato sulle elezioni amministrative ad Avezzano. Vediamo il servizio. Solo nel taldolo pomeriggio di ieri sera si è appreso che il Consiglio di Stato ha sospeso gli effetti della sentenza del TAR dell'Aquila, che il 12 ottobre scorso aveva ribaltato l'equilibrio del Consiglio Comunale di Avezzano, assegnando 13 seggi al centro-sinistra e 9 al centro-destra. Alla giustizia amministrativa si era rivolta proprio la coalizione di centro-sinistra, guidata dall'ex sindaco Giovanni Di Pangrazio. Schieramento, cheppure avendo superato il 50% dei consensi al primo turno, a differenza del suo candidato sindaco, si è visto assegnare la minoranza dei seggi, dopo la sconfitta al ballottaggio contro il centro-destra, guidato dal nuovo sindaco Gabriele De Angelis. Il Consiglio di Stato, cui si sono appellati i consiglieri comunali, che, secondo la sentenza del TAR, decadrebbero per far posto a quelli di centro-sinistra, ha dunque sospeso l'effetto della sentenza del Tribunale Amministrativo, con la composizione dell'assise civica che resta così come oggi. Almeno fino all'ultima udienza di merito, fissata per l'8 febbraio prossimo. Il ricorso del centro-sinistra, curato dall'avvocato Vincenzo Cerulli Irelli, si fonda proprio sul fatto che al primo turno la coalizione di centro-sinistra abbia già ottenuto più del 50% dei consensi, anche se al secondo turno si è imposto il candidato di centro-destra. La decisione assunta dal Consiglio di Stato mi consente di continuare con serenità il lavoro che sto portando avanti, ha detto De Angelis in una nota, nel rispetto del mandato che i cittadini mi hanno conferito scegliendomi come sindaco di questa città. Poiché sono molte le persone che non hanno ben chiaro il meccanismo che ha portato alla situazione attuale, soprattutto il riferimento all'applicazione della famosa Ana Trazoppa, abbiamo ritenuto opportuno chiedere l'UMI all'avvocato Leonardo Cascere, sia in qualità di legale che di consigliere comunale. Ascoltiamo cosa ci ha dichiarato. Ancora un paio di mesi per avere la decisione del Consiglio di Stato in merito alle elezioni comunali di Avezzano. Abbiamo ritenuto opportuno disturbare l'avvocato Leonardo Cascere, soprattutto in qualità di legale, non come politico, anche se fa parte come consigliere comunale, per capire un po' cosa è successo, ma soprattutto perché moltissime persone non hanno saputo nemmeno capire che cosa significa l'Ana Trazoppa e le varie cose che poi si sono susseguite. Allora, cominciamo a chiarire. Qui c'è stato, nell'ambito delle elezioni comunali, la coalizione di Pangrazio, o meglio le liste di Pangrazio, hanno superato il 50% dei voti. La norma prevede questo, che nel momento in cui una coalizione supera il 50% dei voti, l'attribuzione dei consiglieri viene fatta in riferimento a quel tipo di votazione, quindi al primo turno. Poi succede che siccome è andato in ballottaggio con De Angelis, De Angelis ha vinto come sindaco, ed è indiscutibilmente il sindaco perché l'ha eletto il popolo. Invece le liste di De Angelis al primo turno non hanno raggiunto il 40% dei voti, perché se avesse raggiunto il 40% dei voti gli sarebbe toccata automaticamente la maggioranza dei consiglieri. Non l'avendo raggiunto, è chiaro che al primo turno si è verificata la situazione per cui a Di Pangrazio aspettavano 13 consiglieri, più io, più i 5 stelle, e al sindaco sarebbero aspettati 9 consiglieri. Queste sono le norme che prevedono l'elezione sopra ai 15.000 abitanti, l'elezione diretta. La commissione centrale elettorale ha deciso, secondo i parametri di una sentenza del Consiglio di Stato, che nonostante non vi fosse stato il superamento del 40% di voti da parte del sindaco che aveva vinto le elezioni, ha attribuito il premio di maggioranza. Che è successo? Che Di Pangrazio ha fatto ricorso al TAR. al Tribunale Amministrativo Regionale. Per dire no, non è così che deve essere fatto. E in questo ricorso ha fatto anche un'istanza subordinata contro Di me e contro il 5 stelle. Dicendo che, secondo i parametri che loro avevano, il metodo DONT, rispetto al metodo DONT non saremmo rientrati né io né il 5 stelle. Quindi, il Tribunale Amministrativo ha deciso, non sulla subordinata, ma ha deciso sul ricorso principale, e ha deciso di applicare l'anatrazzoppa. Che significa? Significa questo, questo viene dall'Inghilterra, il concetto di anatrazzoppa. Anatrazzoppa significa che, nonostante il sindaco abbia vinto al ballottaggio, e quindi sia il sindaco reale della città, però la maggioranza non ce l'ha, aspetto alla minoranza. Questo è il concetto in sintesi. Poi siamo passati alla fase successiva, cioè anche De Angelis ha presentato il proprio ricorso. De Angelis si è costituito, non ha presentato il ricorso. Un ricorso incidentale l'ho presentato io. Perché? Perché nel ricorso di Di Pancrazio non si parlava del 40%, del superamento del 40% dei voti da parte delle liste di De Angelis. Io ho fatto un ricorso incidentale dicendo, guardate che ci sta anche quest'altro punto, centrale per me, che se non avendo superato il 40% dei voti, spetta l'anatrazzoppa obbligatoriamente. E siamo ai giorni nostri, cioè con l'attesa della decisione del Consiglio di Stato, che poi decisione definitiva non c'è stata. Allora, la sentenza del Tar, la sentenza in primo grado del Tar è immediatamente esecutiva. De Angelis ha fatto ricorso al Consiglio di Stato e ha chiesto la sospensiva. E gli ha dato la sospensiva in un'audita altra parte, cioè senza sentire gli altri. Poi ha fissato per il 9 di questo mese la discussione proprio sulla sospensiva. Il Tar e il Consiglio di Stato ha confermato la sospensiva fino all'8 di febbraio, quando discuterà direttamente il merito. Quindi deciderà se applicare e quindi confermare la sentenza del Tar oppure se revocarla e dare ragione a De Angelis. E quali potrebbero essere le aspettative dell'una e dell'altra, ma soprattutto per i cittadini? Che cosa potrebbe succedere? Si potrebbe tornare al voto, non al voto? De Angelis potrebbe andare avanti nell'avventurità di non essere la maggioranza? Allora, il principio è questo. Io sono convinto intimamente, da un punto di vista prettamente legale, che anche il Consiglio di Stato non potrà violare la norma. La norma è quella e non è superabile, secondo la mia impostazione. Quindi, se conferma la sentenza del Tar, dovrà De Angelis stesso applicare il principio dell'anatrazoppa e quindi eliminare quei consiglieri che debbono essere eliminati e nominare i nuovi consiglieri, quelli che poi hanno fatto ricorso. Quindi succederebbe, si potrebbe verificare che la coalizione di Pangrazi abbia 13 consiglieri, più il 14esimo che sono io, più il 15esimo che è il 5 Stelle e a De Angelis aspetterebbero 9 consiglieri, più lui il sindaco. A questo punto poi entrano in gioco gli aspetti politici che non tutti conoscono, cioè possibili aggregazioni, possibili passaggi, perché De Angelis non potrebbe governare? Certamente, non è che potrebbe governare con 10 consiglieri, quindi è impossibile. Principio è questo. Io, sin dall'inizio, ho detto che bisognava fare un comitato di salute pubblica, non allargamento di maggioranza, dove ci mettevamo a tavolino tutti i capigruppo, soprattutto della migranza e della maggioranza, per dire che cosa ne vogliamo fare di questa città. Io ho sempre sostenuto e continuo a sostenere che lasciare nelle mani di un commissario per molti mesi, anzi, considerate che andiamo a discutere davanti al Consiglio di Stato l'8 di febbraio e molto probabilmente si voterà a marzo o aprile per le politiche, non avremmo il tempo materiale per votare insieme con le politiche, quindi andremo a votare nel 2019. Immaginate che disastro sarebbe per Avezzano avere un commissario per un anno e mezzo circa. Insomma, per concludere, si fa tanto, si lavora molto per quanto riguarda una legge elettorale a livello nazionale, poi ecco, i vari aspetti che coinvolgono quelli locali, insomma, non si hanno mai decisioni definitive. Ma il problema è uno solo, che la nostra legislazione è schizofrenica, io l'ho sempre detto, soprattutto per quanto riguarda le problematiche amministrative e soprattutto quelle elettorali. Basterebbe applicare le norme relative alla elezione del sindaco sotto i 15.000 abitanti. Già esiste la norma. Lì, al primo turno, chi prende più voti vince e avrà la maggioranza obbligata dei consiglieri. Ecco, un'ultima domanda. L'avvocato che c'è, che farà un po' da intermediario, un po' da pacere per tutti e due, fra maggioranza e opposizione, fra il sindaco uscente e quello di De Angis? Io dall'inizio ho detto che bisogna trovare una soluzione. Se riterranno di dover fare un discorso di governabilità, perché io sono per la governabilità, perché non è possibile, l'ho detto, lasciarle in mano a un commissario, io sono propenso a trovare tutte le soluzioni possibili. Ma io, nel rispetto sia di chi mi ha votato, nel rispetto della città, perché il problema non è il nostro, il problema è della città. La città va amministrata, i cittadini devono avere quello che loro aspetta. Quindi abbiamo delle problematiche serie per quanto riguarda il lavoro dei giovani, per quanto riguarda l'amministrazione effettiva di tutta la città, per quanto riguarda il problema dell'arredo urbano, che noi abbiamo necessità obbligata. Quindi, lavorare per far sì che si possa governare, io sono disponibile a ogni tipo di discorso. Anche perché stiamo realizzando questa intervista nel Palazzo di Giustizia, anche perché Avezzano poi rischia di perdere aspetti importanti del proprio sviluppo, insomma, delle proprie aspettative. E questo sarebbe il dramma maggiore. La peggior cosa che potrebbe capitare è questo. Siccome noi abbiamo il Tribunale che allo Stato degli Atti è soppresso, è soltanto sospeso, grazie, grazie, sfortunatamente per il terremoto fino al 2020, però la norma esiste, quindi modificare quella norma è importante. Stiamo facendo un percorso importante col Sindaco, dove ha fatto una richiesta a tutti i sindaci della Marsica di assumere anche da un punto di vista economico delle spese, perché c'è la norma che prevede che se gestiamo noi direttamente il Tribunale, assumendoci le spese, potremmo farlo mantenere. Su questa strada stiamo percorrendo e se mettiamo nelle mani di un commissario, anche questa ipotesi cadrebbe, quindi che sarebbe un dramma per la città. E senza poi dimenticare che ci sono altri aspetti, sanità, sviluppo, sarebbe una tragedia. Sarebbe una debacle totale, voi sapete l'ospedale come è ridotto, lo sappiamo tutti, è continua la sporiazione. Siccome questa sporiazione non possiamo più consentirla, bisogna che amministriamo. La città va amministrata, dobbiamo rispettare la volontà dei cittadini, e la volontà dei cittadini è quella di dire a De Angelis non ti devi dimettere, devi trovare una soluzione. Spediamo, bene. Me l'auguro anche io. Ho presentato una specifica diffida all'attenzione del direttore della Direzione Politica Agricole della Regione Abruzzo e contestualmente una richiesta di intervento da parte della Geo, all'Agenzia per l'erogazione dell'agricoltura, con lo scopo di chiarire e risolvere al più presto la situazione di stallo in cui versano ancora dopo 5 mesi le procedure di valutazione, non anche i procedimenti amministrativi delle misure 4.1 e 4.2 del programma di sviluppo rurale per un investimento pari a 42 milioni di euro. A dichiararlo, il Presidente della Commissione Vigilanza e consigliere regionale Mauro Febo, che spiega quanto segue. Come ampiamente previsto, la Regione Abruzzo, non concedendo una semplice e breve proroga alle misure in questione, ha creato un pasticcio, un caos senza precedenti nella presentazione delle domande, dando luogo alla famosa lista di perfezionamento che ritengo sia a favore di alcune aziende e a discapito di molte altre, poiché gestita in maniera poco trasparente e poco lineare rispetto ai criteri delle linee guida del PSR. Infatti continua Febo, a causa dei vari problemi tecnici, dei ralentamenti e delle difficoltà con le nuove procedure nel rilasciare le domande sulla piattaforma telematica AGEA, molti richiedenti non sono riusciti ad inviare le proprie candidature entro la scadenza dei bandi. Adesso la stessa candidatura a distanza di circa 5 mesi dalla scadenza potrebbe essere concessa grazie alle liste di perfezionamento. La documentazione predisposta, sottoscritta prima e non oltre, la data del 31 maggio 2017, dovrebbe essere quindi solamente caricata sul portale di inviata. In caso contrario, molti invece potrebbero modificarla e integrarla, inserendo e modificando gli investimenti in modo migliorativo. Ieri, giovedì, l'Associazione Liberi Cittadini 5 Stelle ha organizzato presso l'Hotl Abruzzi di L'Aquila un tavolo di lavoro con il responsabile dell'esperimento SOX, il professor Marco Pallavicini, la figura competente dell'Associazione, la dottoressa Fidalma Gualdambreni, esperto fisico qualificato di terzo grado. Dopo il tavolo di lavoro l'Associazione ha aperto un pubblico confronto con giornalisti e cittadini per dare le giuste informazioni circa questo esperimento dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Il professor Pallavicini è intervenuto spiegando nei dettagli come verrà svolto l'esperimento SOX e ha dato informazioni riguardo la sorgente radioattiva che giungerà in primavera nei laboratori del Gran Sasso rassicurando i presenti sulla totale sicurezza di questo esperimento. L'Associazione Liberi Cittadini 5 Stelle tuttavia ritiene opportuno sospendere l'esperimento SOX anche se questo, come dichiarato dagli esperti, è completamente sicuro e non costituisce fonte di inquinamento radioattivo. Per far sì che la sospensione avvenga, l'Associazione in costante contatto con il direttore dei laboratori, il professor Ragazzi Stefano. Martedì 14 novembre alle ore 10.30 presso l'auditorium del Parco del Castello all'Aquila verrà inaugurato il nuovo anno accademico del Gran Sasso Science Institute. Alla ricerimonia saranno presenti i rappresentanti delle istituzioni, della comunità scientifica e della cittadinanza. Professor Barry Barish, vincitore del premio Nobel per la Fisica di quest'anno per la scoperta delle onde gravitazionali, terrà la Lexio Magistralis Detection of Gravitational Waves. Il programma vedrà anche un intervento del senatore a vita della Repubblica e premio Nobel per la Fisica professor Carlo Rubbia. Concluderà l'evento il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio, l'Onorevole Paola De Micheli. Al termine della cerimonia assegurà l'inaugurazione del nuovo rettorato del Gran Sasso Science Institute come detto che grazie alla collaborazione con il Consiglio regionale d'Abruzzo avrà sede nell'edificio appena ristrutturato in via Michele Diacobucci 2 presso la Villa Comunale dell'Aquila. Il domenica 12 novembre ad Anversa degli Abruzzi in occasione del ventennale dell'istituzione della riserva regionale delle gole del Sagittario prenderà il via un evento celebrativo suddiviso in convegni interventi testimonianze visite guidate e letture animate per i più piccoli. Sono circa 450 di ettari di terreno protetti dalla riserva che con il sito di interesse comunitario che insiste sullo stesso territorio arrivano a 1380 1250 le specie animali e vegetali censite nei 15 habitat 15.000 visitatori annuali prenderanno parte tra gli altri i responsabili regionali dell'ufficio aree protette e parchi igino chiuchiarelli e l'assessore competente in materia Andrea Gerosolimo coalizione sociale l'Aquila rispinge ogni ipotesi di licenziamento al call center di Monticchio in provincia di L'Aquila in un comunicato ne vengono spiegate le ragioni in un territorio dove piovono milioni di euro l'anno la crisi occupazionale è sempre più grave come dimostrano numerosi rapporti anche di recente pubblicazione è un esempio lampante la crisi del call center di Monticchio dove ben 200 persone sono giudicate dall'azienda in esubero quindi rischiano di perdere a breve il lavoro che in molti casi rappresenta l'unica entrata in famiglia sindacati regioni anche il sindaco chiesero in estate l'apertura del tavolo ministeriali oggi questo è stato aperto ma finora è servito solo a prendere atto dello strappo dell'azienda che senza colpo ferire sostiene neanche tanto velatamente la volontà di andare via dall'Aquila dalla stessa città è doveroso ricordarlo dove era arrivata l'indomani del terremoto nel 2009 attratta dal profumo degli incentivi pubblici coalizione sociale esprima piena solidarietà ai lavoratori e alle lavoratrici di Icare e si mette a disposizione per contribuire alla risoluzione del problema siamo inoltre consapevoli si legge ancora che a differenza di quanto sostenuto da alcuni è annunciato tra destra in campagna elettorale è oggi veleitario considerare quello dei contact center settore strategico per il futuro della città e la vicenda Icare come quella di altre aziende presenti a L'Aquila nella dimostrazione per ridurre sempre di più il costo del lavoro il settore continua ad essere caratterizzato da una folle corsa al massimo ribasso provocando così continue delocalizzazioni inoltre in assenza di concreti investimenti in futuro sarà uno dei primi a subire gli effetti dell'automazione tecnologica occorre invece impostare finalmente una visione d'insieme sul futuro dell'economia cittadina esata innanzitutto della qualità delle condizioni di lavoro senza perdere di vista l'obiettivo prioritario evitare di perdere da subito altri posti di lavoro l'esigenza di migliorare la conoscenza e le competenze professionali sia per gli addetti ai lavori quindi ristoratori operatori commerciali agroalimentari titolari gestori di pubblici esercizi sia per gli appassionati dell'eccellenza alimentare italiane come per l'appunto di oli extravergini di ottima qualità che la nostra terra d'Abruzzo offre ai consumatori ha spinto il CAT che è il centro di assistenza tecnica confcommercio della provincia dell'Aquila a promuovere il primo corso di formazione per divenire assaggiatori di olio di oliva e acquisire peraltro titolo ufficiale per iscriversi all'elenco di assaggiatori di olio di oliva e come le camere di commercio possono attingere per acquisire perizie sulle qualità organolettiche nonché sulle caratteristiche di genuinità degli alimenti insomma si tratta di una vera e propria nuova frontiera professionale un nuovo mestiere che sta prendendo sempre più piede nel mondo agroalimentare e della ristorazione di qualità così come ormai da anni è caduto nel mondo dei vini come i sommeliers professionisti la docenza dei corsi è stata fidata ad alcuni dei più qualificati esperti del settore tra i quali agronomi assaggiatori professionisti consulenti e giornalisti specializzati che accompagneranno i partecipanti in particolare soddisfazione e piacere dichiara Roberto Donatelli presidente del CAT della Confcommercio per la prima volta all'Aquila diamo vita a questo particolare percorso formativo di 10 lezioni teoriche e pratiche per un totale di 36 ore durante le quali i più qualificati relatori in campo nazionale trasferiranno le loro competenze ai nostri allievi sul pianeta oro verde l'olio extravergine di oliva e le sue straordinarie qualità organolettiche e culinarie consentendo ai nostri operatori di completare i percorsi formativi necessari a migliorare la qualità dell'offerta enogastronomica e turistica dei nostri territori la presentazione del corso si terrà venerdì 1 dicembre alle ore 15.30 presso la sede provvisoria del CAT che ricordiamo il centro di assistenza tecnica la società di servizi di Confcommercio L'Aquila in via Caldora Terminal Bus Natali L'Aquila le elezioni si svolgeranno presso la stessa sede a partire da gennaio quindi del prossimo anno ogni martedì delle ore 19 alle ore 22.30 121 bambini della scuola primaria dell'istituto comprensivo Mazzini Capograssi Scuole Luciana Masciangioli e Sulmona e Romualdo Parente Entro d'Acqua sensibilizzati sul valore dell'acqua sotterranea e degli ecosistemi acquatici grazie ad Aqualife progetto cofinanziato dal programma comunitario Life L'evento svolto sì nella riserva naturale regionale delle gole del Sagittario è stato organizzato dal responsabile ufficio regionale parchi ed aree protette Egino Chiarelli e da Valentina Verini dello stesso ufficio Aqualife progetto di ricerca applicata su indicatori di qualità delle acque sotterranee vede coinvolte la regione il parco nazionale del Gran Sasso in Monti della Laga e del Dipartimento Mesba dell'Università degli Studi dell'Aquila L'obiettivo è sensibilizzare le nuove generazioni sull'importanza dell'acqua come bene pubblico e degli ambienti acquatici sotterranei attraverso il monitoraggio degli ecosistemi delle acque sotterranee sorgenti e corsi d'acqua La riserva naturale regionale delle gole del Sagittario con l'esorgente di Cavuto ha ospitato gli alunni delle classe terze quarta e quinte la scelta delle gole del Sagittario di Anversa degli Abruzzi non è comunque casuale si tratta di un luogo tutelato dalla regione perché è presente i sorgenti ricchi di biodiversità nasce a Sulmone da Vizzano per agire su tutto il territorio regionale una nuova compagnia di teatro Fanta Cadabra Teatro la compagnia teatrale Fanta Cadabra Teatro è nata all'interno della cooperativa sociale Fanta Cadabra che da circa 20 anni si occupa di educazione attraverso il gioco e il teatro reddita un precioso patrimonio di creazioni e un repertorio dei progetti artistici capacità di organizzare e dirigere rassegne ed eventi competenze relazioni istituzionali che sono già attive sul territorio della regione Abruzzo e in Italia la compagnia teatrale nasce dalla collaborazione di un gruppo di professionisti che hanno voluto condividere la propria esperienza in un unico progetto artistico e imprenditoriale dedicato alla produzione gestione e organizzazione di eventi teatrali e culturali con il sostegno appunto del comune di Sulmona e la collaborazione con altre associazioni culturali del territorio questa era l'ultima notizia quindi il giornale termina qui prima dei saluti vi ricordiamo che questa edizione la potrete rivedere sul nostro sito internet che è antenna2tv.it o sulla nostra pagina facebook antenna2avezzano dove è possibile rivedere anche i vecchi servizi che antenna2 ha realizzato nel corso degli ultimi anni adesso vi lasciamo le previsioni del tempo vi diamo appuntamento alla prossima edizione salve e ben ritrovati all'aggiornamento meteo di antenna2 come possiamo notare dalla nostra immagine grafica un'intensa perturbazione ci raggiungerà tra domenica e lunedì e in particolare tra lunedì e martedì richiamerà masse d'aria fredda verso la nostra penisola masse d'aria di origine artica la prima eruzione d'aria fredda infatti si manifesterà all'inizio della settimana che viene e in effetti questa eruzione d'aria fredda farà scendere le temperature e darà luogo a nevicate fino a quote basse relativamente basse sul nostro appennino abruzzese intanto nel fine settimana ci sarà una breve pausa come potete notare numerosi sono i simboli di tempo caratterizzati da una nuvolosità variabile ma non mancheranno sicuramente momenti soleggiati la ventilazione diventerà debole a causa della pausa interciclonica i mari da poco mossi diverranno mossi a fine giornata e in effetti già da domenica si faranno avvertire le avvisaie di un peggioramento le temperature massime saranno stazionarie o il lieve rialzo invece per quanto concerne i valori minimi saranno in decisa diminuzione grazie per la cortesia attenzione e arrivederci grazie per la cortesia grazie per la cortesia